Avrei dato la mia vita per regalare una soddisfazione che tutti i tifosi si aspettavano, quella della promozione in C1. Eravamo più forti, eravamo i favoriti, ma purtroppo rimarrà il mio più grande l'impianto. Vediamo che i tifosi della Turris vanno sotto la curva e i giocatori dell'Urla ad esultare. Chiudiamo questo collegamento, io vi ricordo la Turris ha battuto 2-0 il Benevento ed è in serie C1 dopo lo spareggio di Avellino. Avevo vissuto tutta la settimana le preparazioni della città a questa eventuale festa per la promozione in C1 e invece è andato tutto storto. Grazie.